Dario Chinnici, capogruppo di Italia Viva al Comune di Palermo, si parla in questi giorni di convenzione stadio, amministrazione, il calendario per i consiglieri comunali è fitto? Sì, domani avremo una capigruppo dove andremo ad esitare i termini di questa convenzione che poi arriverà in Consiglio Comunale. Noi l'interesse che abbiamo di tutto il Consiglio Comunale è quello di far giocare la squadra di calcio all'interno della propria città. Ovviamente daremo soltanto un indirizzo politico perché è quello che potremo dare, poi la convenzione ovviamente la esiteranno gli uffici e le commissioni tecniche degli uffici del patrimonio. Noi abbiamo il dovere e lo daremo di dare un indirizzo politico.